Editori, ma non solamente, piccoli e grandi, la Fiera del Libro per ragazzi di Bologna è un'occasione veramente di incontro per tutti. Andiamo a sentire gli animi di questa seconda giornata. È un'occasione di confronto importantissima e di crescita per tutti quanti noi, quindi per noi di fatto è una delle pochissime occasioni in Italia per poter incontrare editori di altre nazionalità, vedere cosa fanno, come si evolve per esempio il mondo delle illustrazioni in Spagna, in Francia piuttosto che anche in altri continenti. Poi è molto difficile trovare fuori un tipo di illustrazione che possa essere valido per il nostro mercato, che molto spesso non è pronto a determinati tipi di illustrazione perché è assolutamente livellato verso il basso. Quindi il lavoro dei piccoli editori soprattutto è un po' quello di scardinare gli stereotipi. Non è facile, ci proviamo, però tutto tira da un'altra parte. Per noi è un appuntamento, calcoli che ci siamo da 25 anni, abbiamo festeggiato quest'anno i 26 e siamo presenti in fiera ormai da 25 anni, il che dimostra la nostra voglia di continuare ad esserci. È importante per il mondo che conosce Cartusi e quindi anche il pubblico dei librai, bibliotecari, insegnanti ed è molto importante per il pubblico invece il lavoro con gli altri editori e quindi per tutta la parte di coedizioni, illustratori, autori. Insomma diciamo le occasioni sono molte e quindi continua ad essere secondo noi un appuntamento importante. È un appuntamento mondiale, è il massimo di importante, cioè se vuoi vendere dritti e anche se li vuoi acquistare devi essere qui. Per noi è molto importante perché è il modo di vedere agli editori asiatici e vengono qui a Bologna, non vanno da un'altra parte. È un appuntamento imperdibile e fondamentale perché offre occasioni sia di trovare nuovi illustratori, nuovi talenti, molti li abbiamo incontrati proprio qui in fiera, che è indispensabile per comprare e vendere dritti. Quindi è proprio l'appuntamento che non si può perdere. Dunque per editori piccoli come noi direi fondamentale, nel senso che è una splendida vetrina, un'ottima occasione per vedere un po' che cosa fanno gli altri e per farsi conoscere sul mercato nazionale ed internazionale. Per cui è un'occasione fondamentale. La fiera dei libri per ragazzi è sicuramente un momento sempre molto importante per avere il modo di incontrarsi con tutti gli operatori del settore che vanno dai librai, con cui abbiamo a che fare ogni giorno, agli editori stranieri, ai giornalisti stessi per quel che riguarda il mio tipo di lavoro. Per cui è sicuramente fondamentale per noi esserci. Questo è un punto di incontro per i nostri clienti e i nostri fornitori e quindi è un ritrovo annuale che ci permette di fare un punto di situazione sulle operazioni avvenute e quelle future che ogni anno trovano numerosi spunti. Perché poi da un'idea magari nata da un editore che ci propone un lavoro, arriva un altro editore che la coppia e quindi poi dopo a macchia d'olio la cosa si propanga. Grazie.